Domenica 3 ottobre ci sarà l'apertura ufficiale di una nuova mostra all'oratorio dei Santi Lorentino e Pergentino in Via Cavour ad Arezzo. Sarà l'occasione anche per presentare il nuovo libro di Gregorio Botta, già vice direttore di Repubblica. Sì, in fondo a Via Cavour al numero 188, in questo gioiello architettonico che la Fraternità dei Laici sta rivalorizzando, riscoprendo anche attraverso un'opera di ristorazione molto bella, avremo l'occasione di ospitare questa mostra che sarà appunto da domenica 3 ottobre fino al 31 dicembre, dove esporranno Alessandra Bedino, Marco Cipolli, Fabio Civitelli, Sonia Fiacchini, Laura Luciano e Lucio Gatteschi, e Fernando Maraghini ed Erika Paceleo, Pasquale Marzielli, Alessandro Mazzone e Maria Teresa Ribul-Mazzola. Nel senso che sarà veramente un incrocio di linguaggi, vari modi di intendere l'arte contemporanea e quindi troverete sicuramente molte voci interessanti. E la presentazione di Gregorio Botta con il libro Pollo Kerocco, Il gesto e il respiro, edizione Naudi. Un libro molto bello che parla di due, ci racconta sia il pensiero che la biografia di due dei giganti dell'arte del Novecento, della New York School. Tra l'altro Botta è stato vice direttore di Repubblica, di un artista visivo di livello veramente internazionale. Le sue opere sono esposte al Maxi di Roma, al Marte di Rovereto, al Musma di Matera, a Francoforte, nella metropolitana di Napoli. Quindi è veramente uno dei volti dell'arte italiana nel mondo. L'evento come sempre è gratuito, domenica ricordo 3 ottobre. Dalle 17 aprirà il portone dell'oratorio, alle 17 appunto il professor Rossi di Fraternita farà il saluto inaugurale e alle 17.30 ci sarà la presentazione di Gregorio Botta.